Ma l'ex presidente della Camera è circondato da donne che danzano nude sul palcoscenico. Vabbè ma siamo abituati con Berlusconi di Peccio. Quest'oggi esce la mia rivista Alternative per il Socialismo. E stasera reciterei i versi di Thomas Eliot circondato anche da belle donne senza velo. Siamo coperti da nudi in tutta la società solo che quando i nudi sono espressione della mercificazione del corpo della donna passa. Quando invece un nudo è un ragionamento no. Aprile è il mese più crudele, generandoli là dalla terra morta, mischiando memoria e desiderio, e citando spente radici con piogge di primavera. L'inverno ci tenne caldi, coprendo la terra di neve smemorata, nutrendo una piccola vita con tuberi secchi. Che sono le radici che s'avvigliano? Che rami crescono da queste pietrose rovine? Che è il mese più grande? Gli è piaciuto lo spettacolo? Sì, mi è piaciuto molto Ma qual era il messaggio secondo lei? Ognuno può vedere quello che vuole D'altra parte mi è sembrato l'universo, la riproduzione, la creazione E per Tinotti gli è piaciuto? Sì, perché no? Questa veste non è male